Donato Cavacchio, passo elettrico Mi chiamo Boris Martorana e ho 70 anni Voce Cironeglie Batteria Ninni Pirris, chitarra e voce Luciano Neglia, chitarra e voce E' felice, è una scelta, è una scelta essere felice Non è vero che non esiste la felicità, la felicità è una scelta, è una scelta, è consapevole Dove arrivo, arrivo Dove arrivo, arrivo, la settimana La band è stata formata da me, Donato Cavacchio e Cironeglie Io mi ritengo in una generazione non fortunata, fortunatissima, noi abbiamo avuto tutto, tutto Perché era il momento, perché era il momento, era il momento del Flower Power, la California Fittà dei fiori Ippes , Ippes Mama se papauns, ippes Grazie a tutti.